Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, l'ingresso di Ilari nello show business avviene nel 1984, quando a soli tre anni con la sua famiglia appare nello spot dell'Olio Cuore, accanto a Mariangela Melato. 1. Successivamente un'amica di famiglia, proprietaria di un'agenzia pubblicitaria, informa la madre di Ilari che stavano cercando una bambina bionda con gli occhi azzurri per uno spot di una marca di panettoni. Il provino andò bene e Ilari venne così scritturata per il lavoro. Negli anni successivi ripete l'esperienza prendendo parte a numerose campagne pubblicitarie, tra cui Cicciobello, Rock, Giocattoli, Renault, Fiat, Barilla, Galbusera, Findus, Balocco, Sansone e Interflora. L'ultimo post, molto tenero e commovente, di Ilari Blasi riguarda proprio il rapporto che ha con le sue figlie femmine, ovvero l'adolescente Chanel e la più piccola Isabel. Infatti la conduttrice ha pubblicato uno screen di una videochiamata tra lei e le due bambine, presumibilmente lontane dalla mamma in questi giorni. Infatti Chanel e Isabel appaiono in tenuta da sci, a godersi una settimana bianca sulla neve, presumibilmente assieme a Francesco Totti, mentre Ilari mostra tutto il suo istinto materno scrivendo. Mi mancate Isa e cani, con tanto di cuoricini indirizzati alle sue figlie. Ilari Blasi ha sempre avuto un ottimo rapporto con i propri tre bambini, così come Francesco Totti che dal punto di vista genitoriale non ha mai mancato un appuntamento. Davvero un peccato, per i fan della ex coppia, che l'idiglio sia finito così repentinamente dopo tanti anni.